Luxury Colori basic per superfici sfumate in giochi minuti Luxury unisce l'alta tecnologia dei grandi formati in grass porcellanato smaltato ad un'estetica eclettica di decori di matrice contemporanea, declinati in chiave classica o minimal dai motivi damascati a geometrie regolari di mosaici a tessere esagonali o lineari in tre formati 90x90, 45x90, 45x45 cm e in due finiture naturale e lappata per il settore residenziale e commerciale leggero